Antonio Micillo da Torriglia, riparte forte il messaggio EduCamp, torna qui, torna in tante location della Liguria che pur essendo una regione piccola per numeri e per superfici è grande per cuore, impegno e anche per risultati tant'è vero che è stata la prima regione in Italia EduCamp lo scorso anno Sì è vero, io torno a Torriglia con grande piacere, li ho conosciuti quando ero delegato del CONI, abbiamo fatto grandi cose e quindi sono particolarmente felice che torni dopo il problema della pandemia, la giornata nazionale dello sport che ha riempito questo territorio con tante discipline sportive e che è stato il traino poi per organizzare gli EduCamp che erano già stati tenuti in questa splendida località molto conosciuta ma anche molto vicina al cuore di tanti genovesi storicamente parlando è sempre stato così e quindi è veramente motivo di orgoglio che sia ritornata Sono certo che sarà un evento, la giornata nazionale dello sport e sarà un bellissimo EduCamp come sono tantissimi gli EduCamp sparsi su tutto il territorio della Liguria anche quest'anno diciamo coloro che hanno dichiarato l'intenzione perché stiamo definendo c'è un contratto poi da firmare e noi seguiamo anche attentamente, diciamo diamo il bolino di qualità in buona sostanza, quest'anno pensate siamo già arrivati a 55 EduCamp che hanno chiesto di poterlo fare e molti di questi anche come quello di Torriglia con possibilità residenziale che non è poco perché organizzativamente è molto impegnativo. Questo ci fa piacere perché vuol dire che c'è uno sport diffuso, multidisciplinare questa è una cosa molto importante e è parso da 20 miglia sino all'ultimo lembo della provincia di La Spezia La Spezia è per esempio Celerici con Cesare Reginato che fa un lavoro splendido ma non voglio dirle tutte perché se no poi dimentico qualcuno. Contento di essere qua, una bella giornata quindi di prospettiva di sport e noi andiamo avanti così perché soprattutto lavoriamo per i giovani, questo è importante e per la promozione dello sport di base soprattutto. Torriglia ha grande vocazione sportiva, ha investito molto negli impianti per offrire ai giovani ma anche ai turisti in estate delle attrezzature all'altezza e poi ha l'impianto naturale più bello del mondo quel lago del Brugneto che conosci e che hai sostenuto nel percorso sportivo per tanti anni oggi è davvero un fior all'occhiello poter pagaiare o remare nel lago del Brugneto credo sia una cosa straordinaria Eh sì, l'hai detto, lo conoscevo di fama, di nome, l'ho conosciuto perché ho avuto un periodo che ho fatto ero nella consiglia di amministrazione di allora, si chiamava AMGA e avevamo visto tutti i laghi e questo mi era piaciuto molto perché era molto vasto, interessante e soprattutto ha creato un microclima eccezionale per cui tutto l'intorno del lago del Brugneto è eccezionale. Io dico a tutti fatelo, io l'ho fatto il giro del Brugneto dipende dalle proprie capacità, dai 5 ai 7 ore, non è impegnativo ma bisogna essere di gamba buona io lo sono ancora fortunatamente ed è veramente bello perché ti fa vedere squarci diversi ed è un impianto outdoor naturale, finalmente è fruibile dalla comunità, questo è importante e arricchisce un'offerta sportiva impiantistica notevole per Torriglia si può fare praticamente tutto, il cavallo, il calcio, la pallavolo, il tennis, il nuoto perché d'estate c'è la piscina adesso abbiamo la canoa sul lago, si può fare l'orienteering, il mountain bike, il trekking ma c'è veramente un'offerta incredibile, merita di venire a vedere Torriglia, le sue bellezze e poi vabbè un passaggio in qualche negozio per mangiare il canestrelletto va fatto